Cattania e Genua hanno in tasca l'accordo per lo scambio Lodi-Taschidis per il quale si attende soltanto l'ufficialità. La soluzione scelta è quella dello scambio di comproprietà col Catania che otterrà la metà del cartellino del giocatore greco e il Genua che farà la stessa cosa con quello di Lodi, vecchio pallino del presidente Preziosi. In favore della società etnea potrebbe anche andare un piccolo conguaglio in denaro o in alternativa una giovane promessa. Si attendono conferme ufficiali anche per l'arrivo del fantasista argentino Freire, già svincolato dal Vélez e per quello del terzino sinistro. I nomi in lizza sono sempre quelli di Rocco e Monzon. Il Catania è impegnato anche a sfoltire la rosa, oltre a Gomez sul piede di partenza anche Frison, che il Cagliari ha individuato come possibile sostituto di Agazzi. Nonostante il recente rinnovo del contratto, continua ad avere mercato al Miron, che piace molto a Torino. Lodi-Taxidis si farà, insomma, sulla base della comproprietà. Francesco Lodi lascerà dunque la maglia rossa-azzurra dopo 90 gare ufficiali e 20 reti. Virgole di bellezza le sue punizioni, cecchino infallibile dal dischietto. Proprio nel Catania la sua maturità tattica in un ruolo cardine è raro come il mediano di qualità. Rapporto però ormai saturo, forse con la dirigenza etnea. Normale cambiare aria. La stessa qualità però la porta in dote Taxidis. Oltre alla giovane età, appena 22enne. Grande esperienza internazionale. Zeman lo preferiva a De Rossi. Può dare molto al centrocampo di Maran. Piedi ottimi quelli del greco. Velocità di giocata più repentina rispetto all'Odi e soprattutto ottima visione di gioco nel suggerire le punte. Bravo anche ad adeguarsi nei ruoli di trequartista e mezzala. Cosentino parla fino ad ora tarda. Il social WhatsApp sempre attivo. Ultimo contatto alle 4.30 del mattino. Pressa soprattutto per Monzon. Intanto qualcuno vocifera. Che l'Udinese dopo l'infortunio del portiere Berkic pare abbia pensato ad Alberto Frison. Maxi Lopez in Italia si gode gli ultimi giorni di vacanza a Roma. D'amico agente del giocatore spera di evitargli il raduno a Torre del Grifo. E pensa al futuro dell'argentino. Il Catania vuole monetizzare. Il Torino pare interessato. Proverà ad intavorare qualcosa per la punta argentina. Ma le cifre di 4-5 milioni sono troppo alte per le casse dei Granata.